Due giorni con bussola e cartina per 700 orientisti sul Monte Bondone con gli atleti regionali sugli scudi. Nella sprint maschile a Candriai, podio tutto trentino, vittoria del Solandro Roberto Dallavalle, GS Monteginer, davanti ai primi rotti Giacomo Zagonel e Fabio Brunette. Alla femminile prima la svedese Amila Bjorklund, alle sue spalle Viola Zagonel, gemella di Giacomo, e la milanese Caterina Dallera. Nella tecnica long alle Viote, con partenza in località Colmi, Lagolo, Val dei Laghi, dominio alto tesino tra le donne, prima Verena Troi, in un'ora 31,57 secondi, a quasi tre minuti, Renate Fauner, entrambe Terlaner, Orientierung, Schleufer, terza Nicole Scalette, US Primiero. Mi è piaciuta una tipica gara long, con tratte lunghe e anche qualche punto molto tecnico. Tra i ragazzi, Samuele Tait e Giacomo Zagonel, si sono dovuti arrendere al forte Alessio Tenani, polisportiva Masi, che ha chiuso in un'ora e 56 minuti netti. Soddisfatti il direttore di gara Andrea Rinaldi e il commissario della Federo Orientamento Sergio Anesi. Direi che è andato tutto bene, i 50 volontari hanno fatto tutto quello che avevamo programmato, i 700 concorrenti sono arrivati da tutta Italia e quindi non possiamo che essere contenti. Un grazie alla località che ci ospita e soprattutto un grazie ai tanti atleti che qui si cimentano nelle diverse competizioni e nelle diverse categorie.